Amici, baciamo le mani a tutti. Oggi mi trovo a Zapani. Indovinate con chi? Con il grande Giovanni detto comunemente Triangolo. Ma per chi ti chiamano Triangolo, Giovanni? Perché mi chiamo Triangolo? Non lo so anch'io il nome. E' un istantaneo nato per caso 12 anni fa. Quindi sono molti anni che sono conosciuto. Andate fuori delle corrette che ho fatto in questi ultimi anni. Questo giorno, oggi, mercoledì, 4 marzo 2015. Una cordiale buona giornata a tutti, anche se sono giunti a un certo radio. Io mi espongo e dico questo a molti giovani che magari sono... Aspetta, intanto diamo una spiegazione a quelli che ci stanno guardando perché non stanno capendo assolutamente nulla. Noi ci troviamo qui perché? Perché Giovanni mi ha chiamato, mi ha detto a Betto, San Amore Scheriano, deve venire a Tremere perché ho una cosa urgente da comunicare. E' giusto? Tu vuoi fare una comunicazione. Dico bene? Esatto. E allora, io sono qui questa sera, anzi, questa giornata, questa bella giornata che anche se non c'è sole, però è una bella giornata. Esatto. Per sentire la tua comunicazione. E' giusto? Esatto. Che cos'è che vuoi comunicare tu? Vai. Voglio dare comunicazione ai giovani d'oggi. Questi giovani importanti perché sono giovani importanti per questo avvenire, per questo mondo che non dà niente, che solo una mano può dare. Noi abbiamo qualcosa che ha a che fare con la natura, ma anche contro la natura. Non voglio essere contro la natura, ovviamente, perché tutto quello che è stato fatto è stato fatto per l'opera di Gesù Cristo. Però voglio dare un messaggio al mondo, a questi giovani, perché possono avere delle comunicazioni importanti, di fuori del New Age che escono adesso, tante altre cose che escono adesso e magari sono cose che fanno distrarre ai giovani e pensare non a se stessi, ma a altri. Voglio dire in questo senso, bisogna pensare a se stessi, a altri, ma bisogna pensare a quei itinerari giovani, cioè ai genitori dove sono stati cresciuti, allevati. Vi sponga per i giovani, per i genitori perché non vanno una vita migliore e non vanno un esempio al prossimo che deve essere. Esatto, questo era un messaggio dedicato ai giovani di oggi, ai giovani di tutto il mondo. Mi ripetisco a Trapani, anche Trapani. Come sono Trapani, mi spongo per Trapani. Esatto, vi ricordiamo che il nostro Giovanni lo potete trovare a Trapani. Giovanni, come lavoro, che cosa fai Giovanni? Io faccio distribuzione. Distribuzione, di che non sappiamo nulla, però distribuisce. Buscio, 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 distribuisce buscio. Quindi se voi volete venire a trovare a Giovanni qua a Trapani, magari ci date una mano a distribuire questi buscio, distribuite insieme, insomma, fate voi. Venitelo a trovare qua a Trapani, che Giovanni è l'amico degli amici ed è completamente a disposizione. Quali sono le tue zone erogene? Le zone erogene sono Massala, Trapani, come anche Maraosa. Da un anno a questa parte le zone erogene cambiano? Sì, infatti, ancora sei alla ricerca di una zona erogena giusta. Esattamente, quindi non ci sono novità. Quando la troverai, naturalmente dovremo avvertire anche dalle spettatori che ci stanno guardando. Ma dopo siamo ritori, non lo so. Giustamente ti devono venire a trovare dove? Nella tua zona erogena, dico bene? Esatto, esattamente. Va bene, e il tuo tallone di Achille quant'è? Dov'è il tuo tallone di Achille? Qual è il tuo tallone di Achille? La domanda specifica? Il mio tallone di Achille? Cioè? Tu guardo lo Skype Puit? Ah, vado via! 43. 43? Sì. Skype di gennaistica? No, Skype di grazio. Ah, Skype con i tacchi. Mentre Skype di gennaistica? No, non ne uso. Non ne uso? No. Eh, va bene, mi pare giusto. Meglio Skype con il tacco, se cammina più comodo. Prima lo stavo vestito con la gravata, adesso basta così. Ah, vero? Ma io mi ricordo di te in lontananza. 2008 è stato. Sì, sì. Che tu venivi vestito sempre giacca e gravata? Eh, voglio dire, sono su YouTube, come Giotto Triangolo, nella colite del dito marrone, e poi sono messo anche su Facebook, Giovanni Cremato, con la mia famiglia. Triangolo, no? Anche triangolo. Anche triangolo. Sotto, tutto il triangolo. Sotto il triangolo. Sotto il triangolo. Quindi se qualcuno ti vuole cercare è una vaghiere. Il sito YouTube. Eh? Sul sito YouTube o su Facebook, anche. Allora, ho una piccola, un piccolo spuntino. Esatto. Ti dico, ma ti possono trovare sotto il triangolo o sopra? No, sopra. Sopra il triangolo. Sotto il triangolo no. No, sopra. Non dobbiamo esagerare, no? Esatto, esatto. Va bene, vuoi dire qualche altra cosa qua a queste, a queste delle spettatrici che per il momento ti stanno guardando, stanno dicendo, vieni da lì a Giovanni, c'è da lì a Giovanni. Sono ammellato da tutti. Che sei? Sono ammellato da tutti. Allora, in fase, accidente, reperendo a quello di scopo fa, ai giovani, cercate le cose più essenziali, le cose primarie. Le primarie sono le cose più spirituali, più importanti per il vostro futuro, perché questo futuro, in questo mondo, di sicuro non ci sarà mai. Sì, e mi pare giusto. È che c'è Giovanni che sta dando un consiglio ottimo per tutti voi, per cui lo dovete ascoltare bene, apritevi le orecchie. E quindi questo è un segno buono per dimostrare con benedità, con fiducia, chi pensa a queste persone, c'è un dato di fatto, cioè io. Esatto. Va bene, noi abbiamo detto tutto. Io vi ho ripresentato al nostro Giovanni Triangolo, di Giappone. Quanti anni hai con te, Giovanni? 45. 45 anni, pensate bene. Però si mantiene sempre giovane, perché sembra... Avevo 40 anni, se per giù. Esatto. 40 anni. Quanto tempo hai che conosci San Amore Siciliano? 23 anni. 23 anni. Più 4 anni. Te la sei passata sempre bene con San Amore Siciliano? Sì, sì. Anche se ho avuto molte confizie nei tuoi confronti un po' negative. Ah sì? Comunque... Eh, poi te lo dico. Facciamola sapere. Allora, invece di Rosalba, di Averso Libri, queste sono due persone che lavorano per voi. Due persone, sole? Sole. Perché non ne abbiamo più di due? Appunto, per questo ho detto... E che cosa dicono queste persone che lavorano per noi? Che parlano con voi in modo pulito e stupendo. Che parlano di noi... In modo pulito e stupendo. In modo pulito e stupendo. Quindi sono cose positive. Certo. Non cose negative. Negative io sento dalla voce. Ah, tu senti la voce negativa, però loro parlano positiva. Esattamente. Esatto, giustamente c'è chi ci può capire e c'è chi non ci può capire. Sono io. Che parli in negativo. No, che parlo positivo per voi. Ah, ti ringrazio. Non posso non hai capito. Allora ci vuoi bene. Certo. Vabbè. Diamo un ultimo saluto a queste delle spettatrici. Un grosso abbraccio al vostro Tria Gianni, tetto triangolo, un abbraccio da parte di Averso Libri e Solpa. Ciao. Ciao, noi ci vediamo! 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 Grazie a tutti.